Il maestro della scuola dell'infanzia a circolo didattico di via Fratta a Solufra da ieri pomeriggio è in carcere. L'uomo che nell'ambito dell'inchiesta di maltrattamenti su minori e accusato anche di violenza sessuale ha violato le prescrizioni degli arresti domiciliari ed è stato associato presso il carcere di Bellizzi Irpino. Il maestro infatti è stato sorpreso in casa in compagnia di una delle mamme che ha denunciato i docenti e di un prete. L'uomo colpito dalla misura coercitiva non avrebbe potuto incontrare persone diverse dai suoi familiari. Sempre ieri il GIP ha revocato gli arresti domiciliari disposti per la maestra di Santa Paolina sostituendo la misura cautelare con l'obbligo di dimora accogliendo la richiesta del legale della donna Gaetano Fiero che assiste anche il maestro. Ricordiamo che tra gli indagati ci sono altre due maestre entrambe della provincia di Salerno. Uno è domiciliare, l'altra è stata invece sospesa dall'insegnamento. Nelle prossime ore per tutti gli indagati i rispettivi avvocati ricorreranno al riesame. Intanto ieri sera presso lo studio dell'avvocato Francesco Filodemo si è costituito il comitato verità per i nostri bambini al quale hanno aderito 40 mamme. I genitori dei piccoli chiedono di sapere cosa realmente è accaduto in quelle aule, cosa eventualmente avrebbero subito i loro bambini. All'avvocato Raffaele Tecce è stato invece affidato il mandato per fare da tramite con gli inquirenti.